E' una vicenda emblematica di cosa può capitare a chi si trova a distreggiarsi nel male citato della giustizia civile in Italia, magari per non aver indovinato all'inizio la giusta via, per uscire da un intrigo di carte bollate. A raccontare la storia sono una madre, la signora Demi, che lavora a Palazzo Pitti a Firenze con uno stipendio da 1000 euro al mese, e la figlia Antonella, disoccupata. La signora è divorziata dal marito e racconta di essere intestrataria a Catasto per un quarto della proprietà di un immobile sulla via Stratale Fiorentina Quarrata, proprietà che non le viene riconosciuta ma per la quale ha pagato per anni l'IMU. Io pago l'IMU su questo immobile, diciamo, si era in comunione dei beni con il marito e quindi ora si è fatto il divorzio, però a me non mi è stato riconosciuto niente, quindi come se non ci avessi niente. Però qui le tasse ci sono da pagare, più ci sono anche figli e insomma il lavoro ora è difficile anche trovarlo. Io diciamo che ho uno stipendio di 1000 euro, non posso andare avanti ancora con questa situazione, infatti ho finito tutti i risparmi dei miei genitori. Ora qui se le cose nessuno me le risolve, perché ho preso anche parecchi avvocati, diciamo, parecchi professionisti, tra avvocati, commercialisti, ma qui tutto fermo, nessuno mi ha difeso, tutto fermo. Stessa situazione per altre abitazioni come quella, racconta la signora nella quale vive a Campi Bisenzio, sulla quale faga l'IMU e che le apparterebbe al 50% senza che questo sia riconosciuto. In mezzo ci sono ricorsi in tribunale, tentativi di conciliazione alla Camera di Commercio, fatture pagate a avvocati e commercialisti, senza arrivare a una soluzione. La figlia Antonella risulta socia non operativa con il fratello Andrea, nella società che gestisce l'attività di affittacamera coerrata. Ogni anno racconta a sua volta, gli arrivano i conti dell'attività sui quali paga le tasse, ma per i quali non ha mai riscosso nulla. Siamo soci, però diciamo si deve pagare le tasse, però a noi non ci danno niente. Non c'è stato mai l'assemblea dei soci, mai è stata, diciamo, fatta l'approvazione dei bilanci, non si è visto niente, dall'età di quando ci sapeva 18 anni. E lei ha anche in situazione? Situazione che mi ritrovo senza niente, senza niente. Sono disoccupata e senza niente.